Gli uomini della Guardia di Finanza, con la collaborazione della Polizia Provinciale, hanno sequestrato una cava situata nel comune di Foligno. Si tratta di un'area di circa 650 metri quadri utilizzata per lo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali, alcuni dei quali ritenuti pericolosi. L'attività, svolta illegitamente, era concentrata per lo più, come detto, sullo smaltimento dei rifiuti, provenienti da attività di estrazione di ghiaie e sabbia, con tanto di attrezzatura idonea, due scavatori, nastri trasportatori, mulini e scale in ferro e un frantoio per inerti. Dai controlli è emerso che la cava era gestita senza le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente. A finire nei guai, il rappresentante legale della società, denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di gestione di rifiuti non autorizzata, in aperta violazione alle norme in materia ambientale, reato per cui è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, o, in alternativa, una salatissima multa che oscilla tra i 2.600 e i 26.000 euro.